Juniors sotto tono, la squadra di Comandini, goffia la rete nove volte la settimana prima in quella di Gatteo e impatta sul pari contro il Diegaro, formazione tosta, ben organizzata e messa in campo dal proprio tecnico che mostra individualità interessanti. Il gioco dei padroni di casa è macchinoso rispetto ad altre volte, mentre gli ospiti, pur producendo una manovra più rapida, non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Germani. Juniors, che continua ad essere dai due volti, a Dottor Jekyll e Mr. Hyde, bene in esterna, meno lucida tra le muramiche. Per Comandini, l'impressione che ci sia ancora tanto da lavorare per tentare di portare il giallobru sul podio per smettere di sondare il terreno e puntare decisamente a fare la voce grossa in un campionato dove, a discapito del ritardo per amalgamare la rosa, la squadra è andata oltre ogni previsione. Ma nel calcio, si sa, occorre vincere. Il pomeriggio è solare, solo a livello atmosferico, le due squadre in campo infatti non creano una grattacampi, in tribuna vinge la quiete. Pronti e via, e gli ospiti provano a pungere da calcio piazzato, ma il colpo di testa a distanza alla vicinata è solo una chiamata per Germani. Dall'altra parte, tiro a giro ma centrale ad opera di Dallara, Evangelisti, blocca senza affanni. Una leggerezza dalla retroquadria ospite fa gridare a gol, ma la sfera calciata da Abdul termina fuori, di un nulla. Si tenta il pallonetto alla distanza, ma il tiro è centrale e il soft per ripensierire Evangelisti. Finale di prima frazione di gioco, con un'azione per parte. Ceni da calcio piazzato prova a sorprendere Germani in ogni quadran di bersaglio, mentre Dallara scalda i guantoni ad Evangelisti. Con il montaggio, passiamo nella ripresa. Non succede nulla fino ai minuti finali. A quarantese o da puniziere, Pavani sfiorisce la sinistra di Evangelisti. Alto calcio piazzato, questa volta la parte opposta attacco dei giallobru consolito, che chiamano le spinte in corner, l'attento Evangelisti. Da una ripartenza a centro campo, Evangelisti viene chiamato nuovamente all'intervento, mettendo la parola alla fine a una partita noiosa con fuochi d'artificio visti solo nel finale. Un punto per parte che muove la classifica per ambe due le formazioni.